Pace fatta tra ASL e farmacie. Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio fatto dalle farmacie di voler cessare a partire dal 1 gennaio 2013 i servizi di prenotazione e distribuzione dei prodotti di assistenza integrativa per conto della ASL. Ed ecco che questa mattina arriva un nuovo annuncio, questa volta congiunto. Protesta rientrata, ASL, CISPEL e Federpharma hanno siglato un nuovo accordo. È stato il direttore generale della ASL, Enrico Desideri, a dare la notizia insieme a Gianfranco Benedetti della CISPEL Toscana e Alberto Sanzoni di Federpharma Arezzo. Il nuovo accordo, ha precisato Desideri, recepisce solo in parte le richieste economiche avanzate dai farmacisti, ma consolida ulteriormente l'impegno sociale delle farmacie pubbliche e private della nostra provincia, che si caratterizzano sempre più come presidio sanitario di prossimità. Inoltre, ha detto ancora Desideri, con il nuovo accordo sono state gettate le basi per una collaborazione che potrà far pesare i suoi effetti non solo sul piano dell'erogazione dei servizi al cittadino, ma anche su quello della propriatezza e della lotta agli sprechi, consentendo così alla ASL di recuperare risorse preziose per un futuro che si preannuncia tutt'altro che erosio. Oltre 34 i milioni di euro che la Regione chiede di tagliare alla ASL la retina nel 2013. Soddisfatti dell'accordo, anche i rappresentanti delle farmacie, che hanno tenuto a precisare, non intendevano in alcun modo procedere al blocco dei servizi svolti per conto dell'ASL. Per quanto riguarda il servizio CUP, il nuovo accordo non contempla alcun aumento, attestandosi sulla previsione di una nuova procedura informatica per la prenotazione, di facile e snello utilizzo da parte degli addetti. Per l'assistenza integrativa viene riconosciuta una quota aggiuntiva di 1,5 euro per paziente al mese, a fronte dei 2,5 euro richiesti inizialmente dalle farmacie. Quota aggiuntiva questa che viene però vincolata al raggiungimento di precisi obiettivi da parte delle farmacie sul fronte della promozione di corretti stili di vita nella popolazione, nel miglior utilizzo dei farmaci, nell'uso prudente e rigoroso degli ausili integrativi, nella restituzione degli ausili in eccesso. Tutti gli obiettivi che, se raggiunti, consentiranno all'ASL di recuperare risorse preziose. Per la questione relativa alla distribuzione diretta da parte degli ospedali dei farmaci di fascia A, infine l'accordo prevede la costituzione di una commissione paritetica di monitoraggio e verifica, che avrà il compito di valutare periodicamente la corretta applicazione delle procedure di distribuzione previste dalle vigenti normative. Meno che fanno loro, c'è un appunto. Chi sa che canto le...